Entra in funzione da oggi un'altra novità della riforma sanitaria regionale, vale a dire le centrali operative territoriali. Un nuovo modello di raccordo ed integrazione tra i servizi di assistenza territoriale ospedaliera, di emergenza e sociosanitari. Un modello che con quasi 3 milioni di euro di finanziamento centra l'obiettivo PNRR. Centrali operative territoriali dette COT che sono state presentate oggi in regione dall'assessore alla sanità Filippo Saltamartini, dal sottosegretario alla presidenza della giunta Aldo Salvi, dalla direttrice Arsmarc Flavia Carle e dal direttore del Dipartimento Salute Antonio Draisci. Dal 1 luglio 15 centrali operative territoriali riusciranno a coordinare i vari servizi sul territorio riuscendo anche a verificare la disponibilità di posti letto e di servizi territoriali. Una struttura prevista dal decreto ministeriale 77 che tende naturalmente a coordinare tutte le varie aziende perché fino ad ora, fino a 1 luglio vi era una cesura tra i servizi territoriali che ruotavano intorno ai distretti e i servizi per acuti che ruotavano intorno agli ospedali. Quindi diciamo che si è creato un sistema con degli operatori che sono in grado di mettere tutti questi servizi in un coordinamento operativo e quindi questo è un grossissimo passo in avanti proprio perché noi registriamo delle carenze sul piano dell'assistenza territoriale oltre che delle lunghe liste d'attesa. Le cosiddette COOT saranno 15 distribuite su tutto il territorio regionale. Nelle pesarese saranno tre, una a Pesaro in via Vattielli, una a Fano in via 4 Novembre e l'altra a Urbino in via Comandino. Saranno attive 6 giorni su 7 per 12 ore al giorno e serviranno a colmare carenze assistenziali fornendo un contributo importante anche alla riduzione delle liste d'attesa. Per la Regione si punta ad una concreta novità nella gestione dei pazienti attraverso una cabina di regia che ad esempio agevolerà le dimissioni dagli ospedali per acuti trovando una collocazione assistenziale appropriata e potenziando la stessa assistenza domiciliare. Ognuna di queste centrali operative ha il personale necessario per garantire appunto questo tipo di coordinamento quindi diciamo che forse del decreto ministeriale 77 è l'unica struttura che è in grado di operare integralmente. Le altre due strutture del decreto del PNRR, quindi le case di comunità e gli ospedali di comunità invece sono strutture finanziate che tuttavia ancora non vedono coperta l'esigenza della domanda di personale che dovrebbe essere attinto dalle strutture esistenti. Quindi diciamo che le cotte, almeno dal punto di vista pratico e teorico, sono in grado di operare e di garantire questo coordinamento.